Come si vive nascosti, chiusi dentro a un carcere? In un anno e mezzo di Capellano e Re Bibbia ho conosciuto tante storie di vite nascoste, con le loro luci, con le speranze, con gli affetti che rimangono in tutte le vite che abbiamo imparato a conoscere e che rappresentano ancora un valore, una speranza. Ecco, sono quei rari momenti nei quali si riceve la lettera che si aspetta da tanto tempo, oppure la videochiamata o il colloquio con i familiari, la telefonata settimanale con la famiglia. Sono momenti preziosi, anche e soprattutto a causa del Covid diventano sempre più rari in questo momento. Noi cappellani, con i volontari, le suore, i laici, i pochi che possono entrare in carcere, cerchiamo di dare una mano, di fornire un supporto, un sostegno a coloro che hanno pochissimi, che li possono aiutare, magari le famiglie non sono presenti, sono stranieri o non sono presenti qui a Roma. Ecco, attraverso la Caritas di Roma, in questa quaresima di carità, anche tu potrai dare una mano offrendo, acquistando un indumento di maglieria intima per uomo o per donna e portandolo nella tua comunità. Grazie per quello che potrai fare, per questo piccolo segno di aiuto e di vicinanza agli ultimi, anche in carcere. Grazie.